Ed è come un riflesso, se non si percepisse la dissimetria, perché questo bianco è cicatrice, un silenzio ininterrotto da versi animali, solo a tratti ci soffia un vento di passaggio che non si ferma appunto passando e questo vento è come la percezione di un chiodo che dice ecco c'è qualcosa, un movimento, ma non c'è niente, ma non si sa se il movimento viene da fuori o è come un respiro che si fa largo nel bianco raspando da dentro, ora che fuori non spira neppure un alito d'aria e dentro la percezione più forte è un trasferimento della strozzatura, ironia del passaggio verticale, la vita passata come infezione all'embrione.